Lo scontro diretto della tredicesima giornata del campionato di prima categoria Girone H vede il San Lorenzo ospite in casa del Corpolò. I padroni di casa schierano Semprini tra i pali, De Paoli, Giannoni, Strologo, Manfroni, Antonelli, Aissawi, Protti, Eltridente, Cabbori, D'Amato e Magnani. Gli ospiti rispondono con Farina tra i pali, Monticelli, Sanchi, Temeroli, Ragusa, Donati, Guerra, Glorioso, Righini, Galluzzo e Fusini. La cronaca. Passano sei minuti dall'inizio dell'incontro e il Corpolò sblocca il risultato. Corner battuto da Magnani, Temeroli respinge e Magnani si riappropria del pallone e crossa per Cabbori che di testa insacca per il gol dell'1-0. Al ventiduesimo Guerra pericoloso cerca la rete del pareggio. Antonelli devia il tiro e Semprini butta fuori dal campo per sicurezza. Dopo un minuto il capitano azzurro Ragusa riporta il punteggio in equilibrio con un gran gol tirato dalla tre quarti. 1-1 Al ventottesimo nessun uomo del Corpolò frena la corsa di guerra che per due volte cerca il gol ma è bravo Semprini a ribattere ripetutamente difendendo così la porta. Un giro di lancetta e il San Lorenzo sfiora il gol. Calcio d'angolo battuto da Glorioso, Righini termina il tiro poco lontano dal palo. Al trentaseiesimo minuto il Corpolò a mancare di poco il gol del vantaggio con una punizione battuta da D'Amato che per pochi centimetri finisce oltre la traversa. Al quarantunesimo ancora Corpolò in attacco. Magnani recupera la sfera passata gli da D'Amato ma il suo tiro viene bloccato da Farina. Sullo scadere del primo tempo D'Amato raggiunge la porta ospite. La difesa non arriva in tempo per fermarlo e il capitano giallorosso la infila nell'angolo destro della porta. 2-1 e squadre negli spogliatoi. All'undicesimo della ripresa occasione sprecata per il Corpolò. Cabori perde tempo davanti alla porta ospite. D'Amato si fa vedere ma l'arbitro fischia il fuorigioco. Al diciassettesimo minuto l'arbitro Marchi della sezione di Forlì non concede rigore al San Lorenzo per intervento di mano di Strologo sul tiro in area di Righini. A questo punto il direttore di gara si lascia sfuggire il controllo della partita e l'incontro si trasforma in una lotta continua. Al ventitreesimo Ragusa butta terra Magnani sul limite dell'area. D'Amato batte la punizione, Protti impatta di testa segnando il gol del 3-1. Dopo tre minuti confusione totale a metà campo. Strologo colpisce un avversario, i giocatori iniziano a litigare tra di loro. Manfroni interviene per calmare gli animi e viene buttato fuori immeritatamente con un rosso diretto. Ma non è finita qui. L'arbitro, dopo aver sbagliato il giocatore da punire, mostra il cartellino giallo a Ragusa che, essendo già stato ammonito, viene cacciato dal campo. I due giocatori espulsi vengono lasciati uscire dal campo da soli e raggiunti gli spogliatoi i due continuano a litigare. L'arbitro, imperterrito, non sospende l'incontro, peggiorando la situazione e portando la tensione ai massimi livelli. Al trentesimo minuto un altro giocatore viene mandato sotto la doccia. Glorioso interviene su Magnani e viene cacciato fuori per doppia munizione. Al quarantaduesimo non viene concesso un altro rigore netto. Questa volta il corpolò a rimetterci. Pompei viene buttato a terra in aria, ma l'arbitro lascia correre. Al quarantaseiesimo D'Amato cerca il gol, ma è bravo Farina a parare il tiro. Dopo pochi secondi sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Pompei, il capitano trova la rete e chiude così l'incontro sul 4-1. Tre punti fondamentali al corpolò che, dopo la vittoria in casa dell'ultima della classe, tira un sospiro di sollievo e riparte carica per salire la classifica il più possibile prima della pausa natalizia. Per il San Lorenzo una brutta sconfitta, soprattutto per il morale dei suoi giocatori, dato che fino al sessantesimo minuto di gioco hanno controllato perfettamente la partita. Una partita ricca di azioni, ma piena di errori arbitrali, che ha mostrato un tristissimo spettacolo di cui si poteva tranquillamente fare a meno. Noi adesso ci siamo guardati in faccia, dopo le ultime due sconfitte in casa contro il Rai Marignano e col Saludecio ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto che così non si può andare avanti, per cui abbiamo cercato di tirare una riga. Fino ai primi 70-65 minuti il risultato è stato in bilico, sul 2-1, anzi forse sul 1-1, sul 1-0 abbiamo avuto più occasioni noi che loro, però purtroppo non l'abbiamo buttata dentro. Loro su due respinte, su due rimesse in gioco da calcio d'angolo abbiamo fatto i due gol, punizioni il terzo e il quarto di rimesso sul finale. Sicuramente abbiamo pagato le palle inattive, lo sapevamo, in un campo eravamo un po' rimaneggiati, ma questo non vuol dire, abbiamo fatto secondo me 60 minuti, secondo me bene, forse anche meglio del corporello. Il risultato è pesante, forse ci ha messo qualcosa di più, anche qualcun altro, che penso che se riguarda le immagini, visto che c'è la televisione, se ne renderà conto. C'è stato un fallo a metà campo, poi dopo il nostro giocatore per difendere un altro è andato forse troppo in ruendo, l'arbitro l'ha vista, l'ha cacciato fuori, poi quello che ha fatto il fallo l'ha espulso per doppia munizione, dopo lì l'altro fallo era quello sulla fascia, gli ha dato una botta che si è sentito proprio il ciocco, quindi non lo so, lì sono situazioni che l'arbitro purtroppo è da solo, è un uomo solo, quindi può fare bene, può fare male, l'importante, ripeto, è per il corpo lover, portato a casa questi tre punti che ci portano un attimo in una situazione un po' di respiro, non so gli altri risultati, però insomma a 14 punti, se guardiamo due domeniche fa, eravamo in una situazione ben diversa.